Siri svegliami alle 7 e 37 Ho messo la sveglia alle 7 e 37 di mattina Non mi sveglio a un orario banale Umberto vuoi dire qualcosa su YouTube? Ciao Ok Molte parole Umberto Ti spaventa la zitta a 47 metri Marco? Si Sei molto spavento L'acqua è 19 gradi Mettiamo la muta in mare Buongiorno Adesso mettiamo in acqua La zitta Siamo pronti Inizia ragazzi la giornatina di lavoro Arrivano gli allievi adesso Dobbiamo fare 28 allievi Devono andare tutti quanti due volte Tre ore abbondanti Buongiorno E lì sono arrivati Vieni tu Marco? Siamo io che guarda il circo Allora ragazzi abbiamo terminato con gli allievi L'acqua è veramente ghiacciata Io sto tremando Però c'è questo relitto a 47 metri Che voglio farvi vedere Grazie a tutti Ciao 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 attenzione sta andando pelizzari a salpare il pedagno si vede tutta l'ansia del viciniante pelizzari e pelizzari 44 anni siamo in Catecreus, in Cadaquè, siamo a fare una isla che si chiama L'Amasador o La Rata, è un sito molto bello con molti animali a presto è un brutto posto è un po' che cammino il villaggio è giù lì e io voglio arrivare su quel cucuzzolo quel cucuzzolo lì voglio arrivare c'è una torretta, voglio arrivare lì e far votare il drone pericolo e guardate che bello sono solo, ecco voglio arrivare lì su non c'è niente, sono proprio solo, ho visto che c'era questa torretta in alto e subito mi sono dato l'obiettivo perché ho bisogno di avere degli obiettivi, se non ho gli obiettivi non mi va di fare un cazzo c'è una spiaggetta solo con due persone lì, sono nudi anche, sono un uomo e una donna Eva e quello come si chiamava là, mi ricordo solo il nome di lei Eva un po' ripidino, se guardo lì è un po' ripidino ma davvero è spettacolare Adamo Adamo si chiamava quell'altro qui c'è una piccola caverna vado a vedere nooo ma che cavolo c'è nessuno? è chiuso che figata bene, continuiamo verso l'obiettivo ehi non molliamo eh lascio aggiungere il mio obiettivo non riesco a trovare il modo per salire su qui scende di nuovo però speriamo non si fa troppo buco oh mi sto appungendo un sacco orca vacca, è sempre più fitto aghia manca ancora tantissimo, manca sta diventando un po' extreme eh cade, questo cade, questo cade allora intanto poso la camera e provo ad arrampicarmi su questo pezzo ce l'ho fatta c'era un altro pezzo di 70-80 metri di macchia in cui mi sono praticamente tutto tagliato ma che cazzo di paura era un grillo minchia, se ho paura dei grilli però ce l'ho fatta eh ecco il mio obiettivo ecco il mio obiettivo ciao obiettivo adesso non sei più tu il mio obiettivo ti ho solo sfruttato ah ok praticamente il sentiero per andare sul mio obiettivo era da qui non ce la potrò mai fare a vedermi una mappa prima di farla che cosa mai comunque ti ho raggiunto anche senza mappa e usando un sentiero che nessuno aveva abbattuto prima d'ora non ce la potrò è Grazie